Venditalia 2024 continua, ci troviamo allo stand Carimali SPA, un'azienda di costruzione e commercializzazione macchine da caffè, oggi molto ben rappresentata da Cristian Palmieri, il direttore commerciale dell'azienda. Ciao Cristian e bentornato. Ciao Fabio e grazie a tutti voi per essere qui con noi nello stand di Carimali. Uno stand molto bello come tutti quelli che stiamo visitando qui a Venditalia, davvero fate a gara ad avere lo stand più sostenibile, più elegante e talvolta contenuto ma davvero molto molto bello. Cristian qual è la novità che presentate in questa occasione a Venditalia 2024? Presentiamo l'ultima evoluzione della Cari Tower, una macchina che avevamo già esposto all'host dell'anno scorso però in questa evoluzione, nell'ultima evoluzione siamo andati a raffinarla e a portarla al massimo della sostenibilità e anche della flessibilità. Eccola qui, noi facciamo un passetto più indietro e svegliamo il layout di questa macchina che anche in questo caso è elegantissima ed estremamente completa. Parlaci delle caratteristiche di questa macchina Cristian. È un piacere, questa è una macchina che nasce dalle esigenze, dalle richieste proprio dei nostri clienti che necessitavano di avere una macchina che racchiudesse all'interno di una struttura ovviamente modulare e gestibile, una macchina che desse una ventata d'aria fresca. Alcuni dei nostri clienti la chiamano un po' la mini Starbucks perché racchiude tutto quello che le nuove generazioni pensano di avere da una coffee to go, un qualcosa che sia flessibile, che sia gestibile e che vada incontro proprio alle loro esigenze. Quindi non un vending classico, non una macchina che dà i soliti prodotti ma veramente una piccola rivoluzione. Consentimi allora di chiederti se ti farebbe piacere offrirci qualcosa. Ovviamente sì e vorrei offrirvi quello che è il prodotto che sta riscuotendo il maggiore successo e in questo caso possiamo andare subito sul caffè sceccherato. Quindi la macchina in questo caso prendiamo il nostro bicchiere e andiamo a selezionare il prodotto, confermiamo e in questo momento la macchina sta macinando una dose da più o meno 12 grammi di caffè fresco, la sta comprimendo in un gruppo che può essere un 7,14 o un 10, 20 grammi e lo eroga all'interno di un abbattitore, di un sistema raffreddatore molto performante e poi tramite una pompa di ingranaggi lo monta come un vero caffè sceccherato. Questo è quello che noi riteniamo una vera novità, la vera novità di questa edizione almeno per quanto riguarda Carimali sicuramente. Può essere addizionato di vari sciroppi perché la macchina all'interno ha tre tipi di sciroppi, due solubili, due tipologie differenti di caffè in grani e ovviamente con queste combinazioni come potete vedere possiamo andare a soddisfare come veramente quando si entra dentro a una di queste nuove caffetterie, di queste novità che ci propongono quindi un caffè freddo, un cappuccino freddo con i vari sciroppi all'interno con un gusto sicuramente nuovo, fresco e che esprime anche degli aromi che normalmente un caffè caldo non riesce a dare, quindi non c'è soltanto novità ma c'è anche proprio estrazione, c'è anche qualità di erogazione del prodotto. Io mi permetto, mi sono permesso di rubarlo dalle tue mani perché nel frattempo era stato appunto ben estratto, l'aroma che viene fuori da questo prodotto e la sua schiuma sono davvero uno spettacolo, consentitemi qualche secondo di... avevo bisogno di assaggiarlo, la tentazione era davvero tanto forte e devo dire anche complimenti, lo poggio qui in attesa di berlo dopo per avere informazioni in relazione a questo prodotto ma anche a tutti gli altri che state esponendo che in questo momento stanno guardando gli amici di BendingTV.it. Qual è l'indirizzo al quale è possibile scrivere per entrare in contatto con voi, ricevere informazioni e magari imbastire un rapporto commerciale con Carimali? Trovate tutte le informazioni sul nostro sito internet e ovviamente anche la possibilità di comunicare sia con il nostro sales che con il nostro marketing attraverso il sito www.carimali.com, lì avrete ovviamente una panoramica di tutti i nostri prodotti e anche la possibilità ovviamente per quelli che vogliono saperne di più, capirne di più, di accedere tramite una richiesta che si può fare sempre tramite il portale alla nostra Academy e al nostro sito dove si possono vedere, oltre che a tutte le macchine che ci sono a disposizione, anche dei tutorial di come utilizzarle, di come manutenerle e anche un po' di tutorial di come estrarre al meglio il prodotto dalle nostre macchine. Complimenti, complimenti per tutto, per la crescita, l'evoluzione aziendale, l'Academy, e i nuovi prodotti è questa nuova Cari Tower, Cari Tower by Carimali, Cristian Palmieri, direttore commerciale di Carimali SPA, grazie. È stato veramente un piacere e ci vediamo alla prossima edizione, grazie.